RAL 6 è un espositore dal grande impatto visivo, che consente di creare un'esperienza d'acquisto unica, conferendo valore e rilievo ai tuoi prodotti di punta come dermocosmetici, integratori o prodotti a marchio. Il design classico ed essenziale della cornice in legno si combina perfettamente con il fondale personalizzabile in sei diversi colori. Il fondale è illuminato da una luce a LED nascosta nel perimetro della cornice, che impreziosisce e valorizza i prodotti ospitati all'interno. Progettato per dar vita a un'esperienza sofisticata, RAL 6 nasce per esporre prodotti unici, dandone maggiore riconoscibilità e valore. RAL 6 è un focal point che utilizza il colore e la luce per creare impatto emotivo ed attrarre. I piani sono disponibili in vetro trasparente o in legno laccato e sono facilmente regolabili per essere adattati alle specifiche dimensioni dei prodotti. RAL 6, come tutti gli espositori delle collezioni RAL System, dispone di un sistema di reglette a doppia tasca su ogni ripiano facilmente intercambiabili, per comunicare chiaramente la sottocategoria e il prezzo. Grazie alle sei diverse colorazioni interne e il suo esterno in legno patinato in grigio e bianco, RAL 6 è la cornice perfetta per i tuoi prodotti di maggior qualità, custoditi all'interno di una scenografia suggestiva e senza tempo.